Fare escursioni in montagna è sicuramente un'attività appagante, ma che non si può fare con leggerezza, soprattutto nella stagione invernale. In linea con quanto sta facendo il Club Alpino Italiano di Parma, anche il gruppo CAI Alta Valtaro sta organizzando degli incontri informativi sull'argomento. La montagna è un bene ambientale di cui è possibile usufruire durante tutto l'arco dell'anno. Naturalmente i modelli di comportamento durante le escursioni devono cambiare a seconda delle stagioni, adattandosi alle condizioni climatiche e alle situazioni dei percorsi. Infatti, uno stesso tracciato che con il bel tempo non presenta difficoltà eccessive, d'inverno può diventare necessario affrontarlo con estrema attenzione. Per questo, il gruppo Alta Valtaro del Club Alpino Italiano di Parma ha organizzato un incontro illustrativo presso la Biblioteca Manara di Borgotaro sulle precauzioni da adottare durante le escursioni invernali. Bisogna andare a fare le escursioni invernali ancora più preparate di quelle estive, bisogna programmare a tavolino a casa, bisogna conoscere i pendi su cui andremo a camminare, a ciaspolare o a fare sci-alpinismo. Bisogna assolutamente che noi si faccia una preparazione dell'escursione considerando tutti i pericoli possibili perché l'ambiente dove si va durante l'inverno è sicuramente molto più difficile di quanto non sia quello estivo. Bisogna andarci preparati, bisogna sapere cosa portare, l'abbigliamento che si deve mettere è sicuramente un abbigliamento un pochettino più tecnico, un fatto in modo tale che si possa, il famoso concetto, spogliarsi a cipolla, togliersi e vestirsi a cipolla perché così ci possiamo evitare di sudare e nello stesso tempo evitare di aver freddo. I pericoli della montagna sono sempre tanti d'estate, aumentano d'inverno con il freddo, con le situazioni problematiche dovute al ghiaccio e alla neve, con la possibilità anche di avere situazioni dove potremmo anche perdere un attimo la direzione quando scende la nebbia. La cosa più semplice è usare una bussola che è una delle realtà delle situazioni, l'uso della bussola che permette a un escursionista di poter trovare il sentiero. Io non voglio essere troppo tecnico generando l'azimut eccetera eccetera che sono poi cose molto più semplici di quanto uno non possa pensare. Un'altra cosa a cui bisogna prestare molta attenzione è poi il pericolo rappresentato dalle valanghe che sono la principale causa di incidenti durante le escursioni invernali. Bisogna assolutamente che noi si abbia la massima attenzione a quello che sono i pendii perché potrebbero scaricare valanghe e anche a quello che è stata la trasformazione del manto nevose nella settimana, nei dieci giorni, nel mese precedente perché quello è un altro generatore di valanghe o di situazioni problematiche. Al CAI stiamo suggerendo a tutti quelli che vengono a fare i corsi l'uso dell'artva che è quello strumento che riesce a farci trovare dai nostri compagni che non sono stati trovati dalla valanga in modo tale che possiamo andare in montagna in sicurezza. Infine è assolutamente consigliabile che non si affronti mai un'escursione solitaria. Perché bisogna andare con qualche dunno d'inverno ma anche d'estate perché se succede qualcosa a uno dei due l'altro può chiamare i soccorsi, l'altro può intervenire in aiuto del compagno che è rimasto bloccato per qualche motivo, per cui in montagna è sempre bene andarci in due o più. E' chiaro che quando si va in compagnia si deve far sì che l'itinerario che viene scelto sia adatto per tutti i componenti del gruppo per non portare qualche dunno a dover faticare più di quanto lui non riesca a fare. Per cui è bene che gli itinerari che si scelgono siano tarati per la persona meno forte del gruppo in modo tale che diventi una bella passeggiata, fatto col sorriso sulle labbra, poi ci si ferma a bere un bicchiere insieme, una birra piuttosto che fare un brindisi con un bicchiere di vino, che è il modo più bello per concludere, credo, un'escursione fra amici. Hanno obiettivi diversi le numerose squadre della Valtaro Valceno che domani pomeriggio scenderanno in campo nei campionati di calcio dilettantistici. Vediamo i dettagli nel servizio. Nuovamente in campo domani pomeriggio le squadre della Valtaro Valceno impegnate nei campionati di calcio dilettantistici. In promozione la Valtarese affronterà tra le Muramiche il cervo Collecchio. Sulla carta i colleghiesi sono sicuramente più forti, ma è prevedibile che i ragazzi di Mister Bozia si impegneranno al massimo per sfruttare il fattore campo e raccimolare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Situazione simile anche per la Medesanese che in trasferta contro la Falc Galileo dovrà confermare la buona prestazione offerta nel turno infrasettimanale che l'ha vista vittoriosa sulla Castelnovese. In prima categoria il Solignano si recherà sul campo del Gattatico che la precede di un punto in classifica per tentare il sorpasso o quantomeno per mantenere l'attuale distacco. In seconda categoria il Bardi dovrà cercare a tutti i costi di fare il colpaccio nella trasferta contro la Fulgor Fornovo per non perdere contatto ai vertici della classifica con Lemignano e Fornovo. Fornovo che a sua volta sarà impegnato in casa contro il Sivizzano in una partita decisamente aperta visto l'equilibrio esistente tra le due squadre. In trasferta andranno anche il Borgotaro che se la dovrà vedere con il Montanara e il Valgotra chiamata sul campo del Fraore a riscattare lo scivolone di domenica scorsa contro il Sivizzano. Inutile aggiungere che per entrambe le squadre l'imperativo è fare punti. In terza categoria la capolista Compiano dovrà portare a casa punti nell'ostica trasferta contro la Varanese per guardarsi le spalle dalla Calestanese che la tallona da vicino e che domani nell'incontro con il Carignano avrà dalla sua il fattore campo. Fattore campo che il Terre Alte Bercetto dovrà cercare di sfruttare nell'incontro con il Basilica Nova incontro dall'esito incerto ma almeno sulla carta ampiamente abbordabile per i Bercettesi. Infine i fanalini di coda Bedognese United e Dinamo Solignano si recheranno in trasferta rispettivamente contro l'Arsenal e il Sissa. Chiaramente i pronostici non sono a loro favore, tuttavia la voglia di riscatto delle due formazioni potrebbe produrre risultati a sorpresa. Le previsioni del tempo per domani domenica 15 marzo cielo coperto con deboli e isolate precipitazioni temperature minime in rialzo sino ai 5 gradi massima inflessione intorno ai 14 gradi venti deboli o moderati da sud-est Prima di lasciarvi i programmi di RTA per oggi e domani questa sera alle 20.35 il programma Bucquet TV alle 21.10 Trucco One e alle 22 la replica del notiziario domani sera alle 20.35 il programma musicale Mille Voci cui farà seguito alle 22.30 la trasmissione Delitti e Misteri la cui terza e ultima puntata sarà dedicata al mostro di Firenze Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma domani domenica il nostro notiziario non andrà in onda l'appuntamento è quindi per lunedì sempre alla solita ora Buona serata e buon weekend a tutti